amici cari di youtube un buongiorno dal vostro lino juventus ragazzi un video solamente per dirvi grazie a tutti per avermi fatto arrivare quota 500 anche forse 502 503 qualche iscritto ancora è arrivato in queste ore io cresco pian piano io cresco diciamo facendo questo io diciamo facendo lo youtuber non per non per lavoro perché certuni io vedo che fanno youtuber proprio per lavoro tipo fanno 456 video al giorno subito dopo la partita su subito e pronto a fu video io onestamente non ho tempo di fare il video subito dopo la partita quindi purtroppo dovete aspettare un giorno a volte anche due giorni però ripeto la mia vita non ruota attorno a un social non ruota attorno youtube quindi avendo altro da fare uso youtube quando un po di tempo libero per fare dei video e parlare insieme a voi ho visto che diciamo dal mese di giugno che io ho fatto questa iscrizione sono arrivato a quota 500 sarà un un misero obiettivo un obiettivo forse di poco però per me vale tanto e io volevo ringraziarvi tutti quelli che siete iscritti ringrazio quando fate quando fate girare i miei video che mi pubblicizzate e tramite voi arrivano anche altri iscritti ragazzi stamattina sono qui per dirvi grazie grazie 500 volte grazie fino alla fine speriamo che stasera facciamo una bella partita ciao